Presidente, la notizia della settimana è quella che si faranno i lavori alla gradinata, potreste tornare a giocare nel vostro campo? Se invece questo campo fosse stato già disponibile prima, il Bagheria sarebbe in questa posizione di classifica? Beh, questa è una bella domanda, chi lo sa, la storia non si fa né con i sé né con i ma, probabilmente il pubblico bagherese affollando le tribune del Comunale avrebbe dato una spinta in più all'11 di Mister Mineo, però sono comunque contento perché la cittadinanza ha risposto comunque bene anche se abbiamo giocato di fatto in trasferta per tutta la stagione. Comunque sono anni che il Bagheria non gioca in casa e quando giocava in casa erano sempre comunque poche le persone, sicuramente bisognerebbe trovare forse le ragioni a qualche altra cosa, magari al calcio in salotto che attira di più che non venire a prendere il freddo che allo stadio. Assolutamente, lei e i pay per view hanno ucciso il calcio dilettantistico, ma il calcio dilettantistico ha una forza, quello di essere vicino alla gente, noi da quello dobbiamo ripartire essendo noi stessi vicino alla gente e facendo rinnamorare il popolo bagherese ai colori nerazzurri. Quante possibilità ha il Bagheria di poter accedere quantomeno ai play-off? Si potrebbe avverare tramite un meccanismo, una congiuntura strada abbastanza particolare, si potrebbe avverare una condizione nel quale se dovesse andare il Ganji in finale di Coppa Italia con il Marina di Ragusa e il Geraci dovesse vincere il campionato, a questo punto verrebbero coinvolte nella corsa play-off non dalla seconda alla quinta ma bensì dalla terza alla sesta. È una situazione abbastanza da prendere con le pinze perché comunque sono delle condizioni abbastanza difficili che si verificano, ma viviamo di speranza e noi fino all'ultimo ci crediamo. Quanti punti sono stati persi comunque per la strada durante questo campionato? In quali partite in modo particolare? Potremmo fare una conta abbastanza ampia dei punti persi. Io ho visto partite contro l'iniziativa Patti sia a San Piero Patti che in casa, abbiamo perso tre punti all'andata e tre punti al ritorno. Poi la classifica ha dato ragione all'iniziativa San Piero Patti anche se in quelle gare non c'è stato un netto predominio della squadra che ha vinto ma noi ce la siamo giocati ad armi pari. A Sant'Angelo di Brollo non abbiamo avuto una giusta intensità e ci hanno punito per 3-0. Diciamo facendo una media fra quelli che abbiamo guadagnato per strada e quelli che abbiamo perso e forse non ci meritavamo di vincere, una decina di punti sicuramente l'abbiamo perso per strada. Comunque in ogni caso mi reputo soddisfatto per il campionato che abbiamo disputato fino adesso. Abbiamo lanciato nel panorama sportivo tantissimi giovani che stanno ben figurando nel campionato di promozione. E poi il nostro fiore all'occhiello rimane quello del settore giovanile della scuola calcio che stanno dando delle ottime soddisfazioni sia in ragione dei numeri che dal lato sportivo. Come si prevede il futuro del bagheria? Il futuro si spera a Roseo. Noi come società stiamo cercando di fare tutto quello che è necessario per gettare le basi per un ottimo futuro. E' chiaro che ciò deve essere anche avallato dall'amministrazione comunale e soprattutto dal popolo bagherese. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo di vedere le tribune piene, aperte e popolate di pubblico di fede nera e azzurra. Capitano, ormai la regola season volge al termine e mancano cinque partite di cui tre in casa e due fuori. Quante possibilità avete di accedere ai playoff? Le possibilità sono molto difficili, però noi ci proviamo fino alla fine. Speriamo, finché non c'è la matematica, l'abbiamo detto un po' tutti della matematica, noi ci speriamo. Purtroppo è anche colpa nostra che andiamo a fare dei passi falsi fuori dalle nostre muramiche. Il Sinagra, l'avversario di domenica prossima, di sabato prossimo, è una squadra che all'andata vi ha battuto. Invece al ritorno a quanto pare forse stanno smobilitando. Che notizie avete? No, onestamente non siamo informati su questa cosa del Sinagra. Noi giocheremo sicuramente per batterli, come abbiamo fatto sempre. Alla fine sarà il campo a dare il giusto risultato. Come ti ricordi questa squadra dall'andata? Una squadra molto esperta. Loro fanno la promozione già da molti anni. Lì abbiamo fatto una signora partita, palla a terra, con i nostri trami di gioco, però il risultato è fito 2-0 per loro. Quindi l'esperienza conta molto. Siamo qui ad aspettarli e li temiamo, perché sappiamo che è una signora squadra. In classifica voi avete collezionato 12 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Non sono molte 9 sconfitte? Sono tantissime, però se vediamo il gruppo giovane che siamo, 9 sconfitte sono pure poche. Guardando pure il campionato che abbiamo affrontato quest'anno per la prima volta, giocatori che facevano gli allievi, facevano la junior, si trovano a giocare in promozione e stanno facendo la loro magra figura. Però è pur vero che in Serie A ci sono ragazzi di 17 anni che fanno pure loro la loro brillante figura. Sì, questo sì, però mi metto nei panni di quelli che si allenano ogni giorno nella primavera della Juventus, dell'Inter, che fanno i calciatori già a 16 anni. E giocatori che vanno tutti i giorni a scuola, chi va a lavorare e poi si viene a allenare alle 7.30 della sera. E' un divertimento anche per loro. Magari sperano in un futuro più rosa, oppure per loro, però per ora sono qua.